vedi la cosa buona che vi fa fare cose strane già questa vai lui l'ha già fatta due volte ma l'ha fatta tutta diversa da come l'ha messa e occhio alla zucca lì giri dentro stretto fate un giro alla Bennett dai su no ma è bella è dentro nel bosco è carina attenzione alla voler senza incrociarla l'ha fatta l'ha fatta non ci credo no no l'ha fatta l'ho filmato dai avete tutto il fiume per farla quando arrivate su qua fino in cima e girate giù dove hai messo tu la moto dal sassone uscite che schifo è tutto sudato non devi far così devi spingerlo spingilo giù spingilo giù vieni via via vai no no falla falla lui stefano allora chi parte io poi arrivo già lì vogliono vederti a te dai su pinza la moto e vai dai che io ti seguo dai su falla giusta eh non cannare dai che la fai guarda che la prova dai io cammino che cosa vuoi di più della vita era sdraiata per terra la moto era sdraiata per terra proprio togli la marcia intanto hai visto continuare a provare il montese adesso va più neanche questa non è proprio non è proprio non è da sottovalutare un paio di cose glielo ho messo non va più che vuol dire non va più dai dai su appoggiati la pianta e vai su in piedi sulla moto è invasata si sente da come puzza non va più no la candela non gliela ha toccata nessuno è invasata adesso la fa stefano la faccio io con la sua dai